Ricapitoliamo, il progetto è portato avanti dalla Fondazione Matera Basilicata in associazione con Casa Natural. Si chiama Mamma Mia! Sì, proprio così, con tre A finali. È un'esclamazione, quando un piatto ci piace, cos'altro dire se non Mamma Mia! Che buono! Andrea, finalmente è sonore che ti sto cercando. Senti, ti ho lasciato questa mattina alla scuola. Qui invece dove ci troviamo? Ci troviamo in un'area che si chiama Agoragri ed è un altro pezzo appunto del Uiurt di Mamma Mia! Quante ricette avete raccolto finora nel progetto Mamma Mia? È un progetto che fino a questo momento ha raccolto 4.000 ricette e come voglio specificare sono storie di famiglie legate al cibo. Quindi non è una ricetta, non chiediamo alle persone raccontami la ricetta, ma raccontami una storia, la storia del cuore che ti lega poi a un piatto di famiglia. Quest'orto, in dialetto Uiurt, sarà un nuovo punto di riferimento per le famiglie di Matera. Qui i piccoli potranno ogni giorno osservare la natura che cresce. Susanna, perdonami il disturbo. Ciao bambini, scusate, vi rubo un attimo Susanna. Andrea Paoletti, mi hai detto che ti avrei trovata nell'orto sinergico. Esattamente. Bellissimo. Che cos'è un orto sinergico? Un orto sinergico è un orto in cui tutte le piante sono coltivate insieme in base a delle consociazioni specifiche. Vuol dire piante che sono amiche con altre piante si mettono una vicina all'altra e insieme si aiutano. Come quando voi vi aiutate per esempio a fare compiti. Vi aiutate mai a fare compiti voi? Allora la salvia è una di queste piante che aiuta sia il terreno che le altre piante. Scopriranno un po' la natura e scopriranno come si pianta e si coltivano gli orti, i giardini. Anche far vedere la campagna, la natura ai bambini che oggi non sanno più niente. E naturalmente non è solo per i cittadini residenti ma anche per quelli temporanei. Io vengo dalla Lettonia, da Turchia, Italia, Bulgaria e Russia.